stiamo pronti? ok, pronto, vengia, casina, casina! Dalla redazione, proprio in questo momento, è arrivata una triste notizia dell'ultima ora. Esco un pazzo, se n'è andato, ci ha lasciato e di partito, è ispirato, è degeduto, il fumoso e amato regista, scemografo, scemecciatore, ballerino, cantante, coreografo, fruttarolo, filosofo, scienziato, giornalista, giornalario, scrittore, attore comico, drammaturgo, Gigi von Baulomo. Sentite condoianze da tutto il mondo, dello spittacolo, dello sport, della politica, della massoneria e della stregoneria. Il presidente ha definito Gigi Bollomo, unico eccezionale che ne nasce uno ogni duemila anni. Su sua volontà il suo corpo sarà imbalsamato ed esposto al castello Savelli di Palombarra Sabina. Il sindaco Felice, Felici, prevede un'affluenza di 5 milioni di visitatori paganti. Le sue ultime parole sono state di mortacci vostri ma avete avvelenato. La procura ha aperto un'inchiesta, ma è già caduta in prescrizione. Nono studio è tutto signore e signori, buonanotte.